Vuoi conoscere il team di Italy Made Easy? Oggi parliamo proprio di questo. Ciao a tutti e bentornati a Italy Made Easy Podcast, sono Manu Venditti e oggi ti parlo appunto del mio team, delle persone che insieme a me creano, hanno creato il canale e l'universo di Italy Made Easy con tutti i nostri corsi, tutti i nostri video, tutti i nostri contenuti che aiutano te, studente di italiano anglofono, a migliorare l'italiano, a impararlo, a migliorarlo, a praticarlo e tutte le altre cose belle. Lo facciamo tutti insieme appassionatamente. Allora, nell'episodio 33 abbiamo parlato delle origini di Italy Made Easy e... vale a dire come io da solo ho avuto l'idea, come io ho creato Italy Made Easy e come piano piano è cresciuto ed è diventato questo bambino che adesso ha 4-5 anni, non me lo ricordo. Ma non sono da solo. Ho cominciato da solo, ma adesso sicuramente non sono da solo, per fortuna. Siamo un bel team. Un piccolo team affiatato di poche persone con tanti cappelli. Facciamo tutti molti lavori, ma ognuno ha un ruolo principale. La prima persona di cui ti vorrei parlare è Alessia. Alessia, cara Alessia, la mia salvezza, il mio angelo. Alessia ha cominciato con me tanti anni fa, 3 o 4 anni fa. Il suo primo lavoro con Italy Made Easy era piccolo piccolo. Era la trascrizione dei video di YouTube che io facevo in italiano. E lei a casa trascriveva il testo. Solo questo faceva. Con il tempo ho visto che era veramente in gamba, era una persona seria, affidabile. Così piano piano è diventata la mia assistente. Alessia ha cominciato ad organizzarmi il lavoro, a pubblicare le cose su YouTube, a coordinare un po' di cose. Tanto che poco tempo dopo è diventata la mia project manager. Ed è tutt'oggi la project manager. Lei si occupa di gestire i vari progetti e ne abbiamo tanti, tanti, tanti. E anche il personale. Alessia gestisce tutte le persone del team di Italy Made Easy che rendono possibile tutto questo. Il grande passaggio per Alessia è stato in concomitanza con un grande momento di Italy Made Easy. Il lancio di From Zero to Italian. In quel periodo, come puoi immaginare, lanciare la nostra accademia, il nostro programma che va da zero all'italiano, abbiamo... una cosa grande, un progetto grande, e Alessia mi ha salvato la vita perché... non so... non so cosa dire. Ha fatto tutto... mi ha aiutato molto a fare tutto. Senza di lei l'accademia sarebbe stata molto più difficile. All'inizio mi ha aiutato con un po' tutti gli aspetti dell'accademia per i quali adesso abbiamo persone dedicate. Per esempio ha aiutato con il forum, ha aiutato con le chat in italiano con gli studenti, ma adesso si occupa principalmente di project management, di coordinare tutto il team. È la mia assistente e si occupa anche dei social media. Alessia è una ragazza dolcissima, è molto calma, anche un po' riservata, è un silenzioso, è timida, non parla molto, ma è anche molto zen. Quando Alessia parla, io mi calmo. Quando c'è un problema, magari siamo in ritardo con un prodotto, un lancio o qualcosa, parlo con Alessia e lei di solito... eh va bene Emanue, Emanue, si trova la soluzione. Non era un'imitazione, non so fare le imitazioni. Un'altra qualità di Alessia è che lei è molto succinta. Quindi nel team ci siamo noi che parliamo bla 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 bla. Parliamo tanto, eh? Arriva Alessia. Ok, quindi in pratica due parole ha detto tutto. Grazie Alessia. La prossima persona di cui ti vorrei parlare è Cristiana. Cristiana è entrata nel team un paio di anni fa e anche lei si è occupata di varie cose, ma principalmente si è occupata di aiutarmi proprio con la lingua italiana. Ma come Manu? Io la conosco la mia lingua. Ma Cristiana è insegnante a scuola, o era insegnante a scuola, adesso è tutta nostra, è tutta di Italy Made Easy. E quindi uno dei suoi compiti era di insegnare l'italiano agli studenti in Italia. Conosce molto bene la grammatica, anche se Cristiana è una storica, non una linguista. E Cristiana è entrata nel team per aiutare con la correzione dei compiti degli studenti di From Zero to Italian. Gli studenti mandano le loro registrazioni audio o scrivono qualcosa e noi diamo loro del feedback. Cristiana fa parte di questo sistema e lei aiuta con il feedback agli studenti. O aiutava, ancora lo fa, ma adesso ha altri lavori. Ma quello è stato il suo primo lavoro. Poi ha cominciato ad aiutare nel forum, dove gli studenti di Italy Made Easy Academy fanno le loro domande di grammatica, ma anche socio-culturali, e Cristiana è anche lì. E poi ha cominciato a fare le video chat, parlare con gli studenti in italiano per fare pratica. Tutti questi lavori ora non li fa quasi più, ma si occupa di più o principalmente di aiutarmi con la produzione dei corsi di From Zero to Italian, perché sono corsi grandi. Quindi come facciamo allora? Cristiana... prima discutiamo che cosa insegnare. Cristiana fa della ricerca, mi propone delle schede di ricerca, di grammatica con vari punti, varie osservazioni, e poi insieme decidiamo che cosa eliminare, perché non è importante... non è necessario sapere tutto. Questo è il segreto del successo di Italy Made Easy e degli studenti, di Italy Made Easy. Eliminiamo le cose che confondono, aggiungiamo delle cose che possono aiutare, spostiamo delle cose, magicamente produciamo i nostri bellissimi e validissimi corsi. Possiamo dire che Cristiana è il nostro boss della grammatica. E noi abbiamo una dinamica interessante, perché Cristiana da italiana, che ha studiato la grammatica da italiana, propone generalmente una struttura più tradizionale della grammatica e poi arrivo io e dico no 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 no, assolutamente no. Spostiamo, spostiamo e insieme arriviamo alla conclusione che è sempre ottima. La personalità di Cristiana è diversa da quella di Alessia. Vale a dire, Cristiana è molto spigliata, molto chiacchierona, parla parla parla, è simpatica, è molto pimpante e una cosa negativa, cerco di fare positivo e negativo, è che si agita facilmente. Quindi da una parte ho Alessia che mi calma perché lei è tutta zen e dall'altra ho Cristiana che mi agita perché entra subito in panico se c'è un problema. Insieme noi tre siamo perfetti. Un equilibrio che non potrei chiedere di più, siamo veramente bellissimi. La prossima persona del team importantissima anche questa è Cristian. Cristian è l'unico non italiano. Cristian è australiano, lo conosci dalla serie di Italian Accelerator. È un australiano che ha imparato bene l'italiano, benissimo l'italiano. Cristian si occupa di varie cose, principalmente è la persona incaricata dello Student Success. Quindi lui segue gli studenti, si assicura che gli studenti stiano capendo e studiando e facendo e progredendo. Al momento risponde anche alle email. Grazie Cristian che mi hai liberato di due ore di lavoro al giorno. Adesso che le email le guardi soprattutto tu, grazie. Il lavoro importante di Cristian in quanto anglofono che ha imparato l'italiano è un lavoro linguistico. Cristian è in grado di darci la visuale dell'anglofono che studia l'italiano ed è proprio Cristian che propone problemi e che trova soluzioni quando noi italiani decidiamo di insegnare una cosa o facciamo degli esempi o quello che sia. Cristian generalmente è la persona che dice no no ma così non è utile, perché non mi serve che tu mi spieghi questo, perché questo è ovvio. Ma io, da persona che ha studiato l'italiano, ho avuto problemi con quest'altra cosa. E alla fine è per questo che tu, studente e seguitore, fan di Italy in Made Easy, è per questo che tu trovi i nostri video che sono diversi da tutti gli altri video di YouTube e del mondo, perché noi abbiamo questa visuale di anglofono che studia l'italiano e i nostri contenuti sono specifici, sono mirati per risolvere i tuoi problemi e non i problemi di qualcun altro, i tuoi problemi. Ultimamente Cristian si è occupato della produzione del nostro prossimo programma segreto, che è un programma audio, è un audiolibro fantastico. È un corso che ti aiuta a imparare e a migliorare l'italiano tramite una storia, un romanzo. E questo romanzo è pieno di materiali aggiuntivi che ti permettono di imparare l'italiano. È stato proprio Cristian di Italy Made Easy a identificare le espressioni italiane usate in questo audiolibro e dire questa espressione è complicata per me anglofono, me lui, e quindi ha bisogno di una spiegazione. E abbiamo prodotto non so quante pagine di schede di espressioni prese da questo libro e sono espressioni fantastiche, sono espressioni colloquiali che noi usiamo tutti i giorni in italiano e che un anglofono ha problemi a capire. O non trovi su un vocabolario, non trovi la spiegazione, o anche se traduci non capisci perché il contesto è molto italiano e le nostre schede le ha preparate Cristian. Quindi grazie anche per quello. La personalità di Cristian è un mix. Cristian è abbastanza timido perché è poverino. Tu immagina, Cristian è l'unico italiano del team e quando facciamo i meeting abbiamo quattro o cinque italiani che parlano a tutta velocità in slang, in dialetto, bla 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 e lui è lì che deve partecipare. Quindi di solito in un gruppo è la persona più timida, più timido di Alessia perché... perché non vuole parlare troppo. Ma non è timido, è simpatico, è spigliato anche lui. Ma il team non finisce qui. Abbiamo ancora due italiani, italiane, che hanno ruoli importantissimi. Abbiamo Giada, siciliana, che si occupa dei forum e soprattutto delle video chat con i nostri studenti. Abbiamo Cristiana, Giada e Michela che insieme sono disponibili per chattare, video chattare in italiano con i nostri studenti di Italy Made Easy Academy. Ed è per questo che i nostri studenti sanno parlare ed è grazie proprio a persone come Giada che con la loro bella personalità e la loro disponibilità e la loro calma e pazienza aiutano i nostri studenti a fare pratica di italiano parlato e quindi capire l'italiano parlato ed esprimersi in italiano. Giada è con noi da più o meno un anno e la sua personalità è dolce, è una persona... è una persona molto dolce e anche molto formale. Ed è secondo me una differenza culturale fra una siciliana e un romano o una triestina... ah non l'ho detto... Cristiana è di Trieste e Giada è di Catania. L'altra persona che partecipa alle videochiamate con gli studenti è Michela che credo abiti a Bologna... oddio... Michela scusa non mi ricordo... comunque Michela anche è dolcissima e anche lei è molto paziente, ovviamente per fare le chat bisogna essere persone calme. La cosa interessante di Michela è che è di origini argentina, è cresciuta in Italia, è italiana ovviamente, ma la mamma è argentina. Se voi parlate in videochat con Michela potete usare anche un po' lo spagnolo. Ma il team di Italy non finisce qui, abbiamo altre persone... le nomino velocemente perché questo episodio è lunghissimo. Abbiamo Alex che è il nostro programmatore in Russia, poi abbiamo un tecnico del suono che ci aiuta con la produzione del podcast, ciao Mirko, in Italia. Abbiamo un video editor che monta i video di YouTube e poi abbiamo persone che entrano e escono in base alla necessità. Al momento abbiamo un esperto di YouTube che ci sta aiutando con l'ottimizzazione dei video, abbiamo persone che ci aiutano con Facebook... insomma siamo un bel team, siamo tanti. Ed è grazie a questo team che noi possiamo essere qui presenti costantemente ad aiutarti, sia qui nei podcast che su YouTube, che sull'Accademia di Italy Made Easy Academy. Siamo qui per te, ti ascoltiamo e vogliamo il tuo successo. Ed è grazie a te che abbiamo raggiunto 100.000 iscritti su YouTube, abbiamo 15.000 iscritti sulla nostra Accademia che fanno i nostri corsi e voi ci supportate come potete. Se ci seguite su YouTube è fantastico. Se ascoltate il nostro podcast grazie mille. Se potete acquistare un nostro corso grazie anche per quello. Se volete fare... praticare l'italiano con le nostre... con il nostro servizio di videochiamata grazie. Ci aiutate nel modo in cui potete ed è uno scambio reciproco, giusto? Noi vogliamo bene a voi, voi volete bene a noi. Questo è tutto. Ho perso la voce perché ho parlato del mio team e io adoro il mio team. Non c'è... sono tutte persone fantastiche. E sono una persona fortunata ad aver creato questo ambiente sicuro per il team ma anche per gli studenti, spero. Ok, basta Manu, adesso mi commuovo. Basta. Ciao, alla prossima!